La Val Gardena è una delle mete più apprezzate e più famose dell'arco alpino dagli appassionati degli sport invernali grazie alla sua offerta turistica e al paesaggio mozzafiato delle Dolomiti. Quest'anno, nonostante le scarse precipitazioni nevose che hanno compromesso l'avvio di stagione ed il ponte dell'Immacolata, gli operatori del settore guardano con fiducia le prossime settimane, quelle tra Capodanno e l'Epifania. Un gran lavoro poi è stato compiuto sulle piste per renderle agibili grazie all'innevamento artificiale. All'inizio stagione, purtroppo quest'anno è stato molto inferiore agli anni passati in quanto le temperature non hanno consentito di preparare le piste. Sono state invece molto buone le vendite degli skippa stagionali perché la gente confida nell'attrezzatura e nell'artiglieria di Dolomiti Superski di preparare le piste nonostante le condizioni meteo e forse non naturali, sfavorevoli. Sono nevate con la neve programmata e in quota, oltre i 1600 metri, c'è neve naturale perché il paesaggio, per chi si sposta in vetta o in quota per fare i giro, i quattro passi, se la rondo e va in marmolada, trova ovviamente un ambiente molto bello, naturale, imbiancato. Un luogo la Val Gardena frequentato da turisti di diversi paesi. Negli ultimi anni si è visto un aumento di quelli provenienti dall'Europa dell'Est. Sì, abbiamo un leggero calo di turisti italiani, questo è risaputo un po' per la crisi che stanno subendo in Italia e invece abbiamo un aumento di clientela internazionale, non solo europea ma anche l'oltreoceano, che scoprono piano piano le Dolomiti anche grazie al riconoscimento dell'UNESCO a patrimonio mondiale dell'umanità. La Val Gardena con il suo collegamento alla zona sciistica Dolomiti Super Schiff, a parte del carosello sciistico più grande del mondo, ovviamente l'arrivo della neve sarebbe un regalo gradito per riuscire a rendere il paesaggio davvero da cartolina.